Oh madonna adesso anche i milanisti parlano, anche i milanisti parlano di ruberie quando hanno avuto Berlusconi per anni, parlano di mafia loro, parlano di Farsopoli che hanno vinto una Champions e dovevano essere fuori dalla Champions e dicono che noi dovevamo essere in Serie D e questi parlano e non hanno le sentenze davanti. Io ripeto, Alex Restelli, la Rosso Nero, adesso non so come cazzo si chiama, cioè questi qui purtroppo parlano con la Gazzetta e lo sporto davanti, cioè i processi sono andati avanti grazie, anzi per colpa dei giornali, le sentenze hanno detto un'altra cosa, le motivazioni hanno detto tutta altra cosa, cioè capite che chi parla di Farsopoli non parla con cognizione di causa, perché se su un pezzo della sentenza che vi ho fatto leggere c'è scritto che non c'è, non vi è prova di un'alterazione a favore di un'altra o dell'altra contendente, cazzo ci sarà un motivo o no? Se dopo 9 anni 9 arbitri su 10 in Cassazione sono stati assolti, cazzo ci sarà un motivo o no? Dove cazzo sta la cupola se 9 arbitri su 10 sono stati assolti? Ma poi un milanista che vince la Champions nel 2007, l'ultima che ha vinto, grazie a quella cazzata che praticamente il Milan doveva essere almeno fuori dalla Champions League, ok? E l'hanno promosso in Champions League di fatto, con Meani che diceva quando attacchiamo noi tenente giù la bandierina e guardaline, ma va bene, Ma poi uno che parla di mafia, che poi anche lì, Pulvirenti, Radel Catania se non sbaglio, o chi cacchio era, ha ammesso di aver fatto illecito sportivo e si è beccato 5 anni di inibizione, 5 anni e moggi che è stato accusato di tentata fraude sportiva e non di illecito sportivo. Leggetevi le sentenze ragazzi, leggetevi le sentenze, quindi non c'è stata neanche la fraude sportiva avvenuta, quindi la Juventus non ha neanche tratto vantaggio dagli atteggiamenti di moggi, moggi è stato punito per tentata fraude sportiva, la stessa cosa appunto per la quale poi è stata punita di conseguenza la Juventus. E la tentata fraude sportiva non ammette la retrocessione di categoria, studiate capre, studiate, purtroppo questo bisogna ribadirlo ogni anno, ogni tot, e comunque appunto di fatto moggi è stato radiato per tentata fraude sportiva, che è molto meno grave rispetto all'illecito sportivo di Pulvirenti, che poi invece lui si è beccato, se non sbaglio, 5 anni di inibizione, va benissimo. Poi ha parlato di altre cose, del gol di Montari, che poi sarebbero andati sul 2-0, no? Però io ricordo che in un Napoli-Juventus di quell'anno siamo andati sotto i due gol, 3-1, 3-1, ok? In un campo che per me era in quel momento il più difficile, e molto più difficile rispetto al Meazza, e la Juventus è pareggiato 3-3, quindi sopra i due gol, che cazzo ne sapete voi, che poi la Juventus non avrebbe comunque pareggiato? Ma voi avete già, avete la sfera di cristallo, no? Voi sapete che con il 2-0 di Montari la Juventus avrebbe perso comunque. Trasciando poi i punti buttati, se non sbaglio, col Palermo, con la Fiorentina contro chi li avete buttati, vabbè, e poi il derby a fine stagione, alla penultima giornata, quindi io non so di che cosa state parlando. Poi ha tirato fuori il fallo di mano di De Sciglio, falli di mano, sono falli di mano, a differenza del fallo di schiena di Isla, con il quale poi avete vinto 1-0 contro di noi, no? Ricordiamocelo questo, perché il fallo di mano fischiato al Meazza di schiena di Isla, qui la presa, rigore, e avete vinto 1-0, ma queste cose ovviamente non ve le ricordate. Farsopoli poi, tornando a Farsopoli, ricordiamoci che il signor Zlatan Ibrahimovic, dato che parlano sempre di ammunizioni pilotate, di file, queste cose qua, Ibrahimovic venne ammunito la partita prima di Juventus-Milan, di Milan-Juventus, finita poi 0-1 con gol di tre seghe sulla resciata di Del Piero, se non sbaglio, e Ibrahimovic venne ammunito, diffidato, e venne quindi squalificato in conseguenza per proprio il derby, il match scudetto, Milan-Juventus, e queste cose ovviamente non le dite, ma poi ripeto, chi poi ha fatto, dalle nostre parti si dice, dei tramacci, no? Delle cose che hanno avuto presidenti veramente, che ne hanno combinate di ogni, di ogni, e poi fanno la morale agli altri, mi viene da ridere, da ridere. Poi, anche questo qui, che parla degli episodi arbitrarie, e gode però per le finali di Champions sperse da noi, perché non tira fuori allora il, ad esempio, il gol in fuorigioco di Miatovic contro di noi, del Real Madrid, del 98, i due rigori non dati alla Juventus contro il Dortmund quando abbiamo perso 3-1, nel 97, il gol annullato regolare a Cristian Vieri, perché non tirano fuori queste cose, perché non tirano fuori i 25 passi di Dida in finale a Manchester prima che venissero battuti i rigori, e quindi erano 3-4 rigori nostri, sbagliati, ma da ripetere, perché Dida, prima che venisse battuto il rigore, era quasi sulla linea dell'area piccola. Perché queste cose non le dice? Perché queste cose non le dicono questi qui? No, vorrei saperle, vorrei sapere perché queste cose loro non le dicono. Vabbè, io ragazzi, finisco qua perché, ripeto, io mi sono messo su Youtube per difendere anche la Juventus, la Juventus non come società, la Juventus come maglia, come colori, come più che altro tifosi, tifoseria, perché poi la società fa i suoi interessi, quindi non è che mi interessi più di tanto. Però, vabbè, comunque, ragazzi, vi ho fatto vedere quanto, purtroppo, su Youtube molti dicono delle cose semplicemente per tirare l'acqua al proprio mulino e basta, per attaccare. E poi, quando si parla, e io, quando ho parlato, ad esempio, dei finali di Champions-Persi, mi sono incazzato con la Juventus e non ho mai tirato fuori il discorso degli episodi arbitrali, chi mi segue lo sa, chi tira fuori il discorso degli episodi arbitrali, ragazzi, è un perdente di natura, cioè, io capisco incazzarsi per un episodio al momento, poi, però, a mente fredda, analizzi, ha detto che il rigore su Vasquez era nettissimo, è una tua opinione, non è netto per il cazzo quel rigore, ok? E io sono dell'idea che qualora ci fosse stato il VAR non sono sicuro che l'avrebbero fischiato, non sono per niente sicuro, ma va bene, perché Benatia tocca prima il pallone e mi dà l'idea che Vasquez sia già in caduta libera prima del contatto, quindi va bene così, e poi il pallone sarebbe arrivato comunque a Buffon. Questo è il quanto, anche dopo lo stop di Vasquez, quindi Vasquez ha sbagliato lo stop e si è buttato, questo è, questa è la verità. Questo è il quanto, ragazzi, io non voglio che insultiate lui, che insultiate gli altri, perché poi sotto ho letto veramente dei commenti abominevoli, abominevoli, veramente, ci sono la mafia, questo, l'altro, quell'altro, vabbè, che poi loro sono andati in B per il calcio scommesso, perché sono, cosa hanno fatto? Sono venduti i partiti, li hanno comprati, non lo so, comunque hanno fatto dei magheggi pure loro negli anni Ottanta e fanno la morale a noi, fantastici, avete fatto due anni di B voi. Comunque, detto questo, vi auguro buona serata a tutti, sempre comunque fino a fine Forza Juventus, sempre soli contro tutti, perché come ha detto lui, tutti sono contro noi, ma chi vince sta in culo perché vince, sta in culo il Real Madrid in Spagna, il Barcelona in Spagna, sta in culo il Bayern Monaco in Germania, sta in culo in questo momento il Liverpool in Inghilterra o il City, stiamo in culo noi in Italia, perché vinciamo, tutto qui.